Sono qui per parlarvi del pastificio Berlito, un pastificio piemontese di Carmagnola, la zona del famosissimo peperone, prodotto esclusivamente con grani provenienti da filiera italiana, io perché ha rispetto per la natura, rispetto per la diente, ma soprattutto rispetto per la nostra salute. Mi è piaciuta tantissimo perché è molto porosa, assorbe benissimo ogni tipo di condimento, è una pasta che ho sperimentato sia in inverno che in estate con piatti freddi e con piatti invece un po' più elaborati e mi è piaciuta in entrambi i casi. Solo una piccola segnalazione che i tempi di cottura sono un pochino più alti rispetto a quello che è il mio target. A me piace la pasta un pochino più al dente quindi io la lascio cuocere qualche minutino in meno. Ho provato anche la linea integrale e mi è piaciuta tantissimo anche quella. È una pasta che vi consiglio, vi consiglio di dare un'occhiata al sito di Berlito, troverete sicuramente la pasta che fa per voi. Grazie a tutti.